Wow! Anna, oddio, ho trovato una spadata, scusami. No! Hermano, ti uccide! Staccala. È giusto, la stacco e la metto là. Giusto, Anna, tu sì che sei un'esperta di mappe brutte. Non per niente le crei. Tu stessa dall'età di 12 anni. C'è un creeper! Creeper, chiudi! Chiudi! E adesso come cazzo facciamo? Andiamo ad andare avanti, ma sto creeper l'ha messo lui. Ci penso io. Non rompere tutto! Vai, Hermano! Hermano, va all'attacco! Hermano, all'attacco, attenzione. Anna, dammi una mano. Mamma mia, hai visto, Hermano, il coraggioso? Grande! Allora, ma è buio qui. Ma devo andare avanti. It's dark, but I must go. Vabbè, facciamo che i cartellini in inglese non li leggo perché sono un po' tristi. C'è un altro creeper, attenta. Vai, Hermano! Mamma mia, Hermano, è l'ammazzatore. Vieni, vieni. Qua c'è un... Ah! Sono caduto di sotto! Eh, una nuova stanza con uno zombo! Wow! Anna, oddio, ho toccato una spadata, scusa. No, Hermano ti uccide! No, Hermano! Era Anna! Sei un pallo di m***a, però, eh! Era Anna, era! Set 2. Trova la combinazione della porta. Test 2, trova... Vabbè, sì. Abbiamo capito. Allora, bisogna tirare delle leve. Tiro questa, tiro questa. No. Tiro questa, tiro questa, tiro questa. Eh, madonna! Oh, che diavolo! Sono bravissimo! Checkpoint c'è qua. È pieno di roba qua dentro. Prendo un arco e delle frecce. Oh, spada! Hai superato la seconda prova, ma non la tre, troll. You are now. Prendi un po' di sushi. 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 Prendi...